Resta bassa la curva dei contagi dopo il weekend. Nel bollettino di ramato oggi in Puglia sono stati rilevati 9 nuovi casi di positività. Due in provincia di Brindisi, due nel Foggiano e due in provincia di Lecce. Dunque 0 nuovi contagi per la BAT, Bari e il Tarantino. Oltre 4.000 i tamponi effettuati e tasso di positività che crolla ben al di sotto dell'1%. Anche oggi, come accaduto nel bollettino di ieri, non sono stati registrati decessi. Dato confortante per il secondo giorno consecutivo, riprende la discesa degli attualmente positivi dopo una lieve stabilizzazione. Ad oggi sono 3.472 i contagi attivi in regione. Di questi 157 sono i pugliesi ricoverati nelle strutture ospedaliere. Sale il conto dei negativizzati, circa 400 nelle ultime 24 ore e totale dei guariti che supera quota 243.000 unità. Entrando nello specifico della provincia BAT, Andria è l'unico comune dove gli attualmente positivi superano la soglia dei 50 contagi attivi. Tutte le altre città sono al di sotto, come si evince dalla mappa colori, diramata dalla regione. Capitolo vaccini, la Puglia supera quota 3.400.000 somministrazioni, traguardo tagliato proprio nella giornata di ieri. Secondo gli ultimi dati, la campagna vaccinale puliese, sino ad ora, ha utilizzato il 92,7% delle dosi a disposizione.